Vuoi diventare influencer della tua regione? Oggi si può, perché l'Aggiunta regionale ha approvato ufficialmente la costituzione del team di influencer Abruzzo Smart Ambassador per la promozione del territorio e delle sue eccellenze. Se si ha un canale social, un blog o un sito dedicati alla promozione del territorio, ci si può candidare a diventare influencer ufficiali entrando nel team Abruzzo Smart Influencer. Nell'ambito della strategia regionale di comunicazione e promozione del brand Abruzzo e dei prodotti turistici regionali, infatti, la regione, con una delibera dell'Aggiunta, ha approvato la costituzione di un team di web opinion leader, influencer e micro-influencer del web, da denominare appunto Abruzzo Smart Ambassador, costituito da esperti conoscitori del territorio regionale abruzzesi o di una parte di esso che siano desiderosi di partecipare attivamente alla narrazione collettiva attraverso il web della bellezza del territorio regionale, delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, culturali e no gastronomiche e che abbiano un buon seguito sul web. Per diventare Abruzzo Smart Ambassador è indispensabile avere pertanto un sito web, blog, su cui condividere le proprie esperienze di racconto d'Abruzzo oppure un canale social, una pagina, un gruppo Facebook, un profilo Instagram, un canale YouTube o Vimeo, dedicati alla promozione del territorio regionale attraverso testi, immagini e video, con un buon seguito ovviamente. Non è necessario avere però dei numeri da record per diventare Abruzzo Smart Ambassador, il requisito fondamentale è la passione per il racconto del territorio e soprattutto la corretta gestione dei canali utilizzati per tale scopo. Un lavoro, tra virgolette, se così si può definire, da fare gratis però perché non sono previsti compensi e remunerazioni.